bentornati sul canale quasi starebbe bene per chi di voi ricorda le avventure di X-Files perché non passa giorno non passa giorno e beh anche a campionato finito che non ci sia un caso un file aperto sulla scrivania di qualcuno dal campo appunto alle scrivanie e c'era tutta una ragazzi è stata una stagione io il distacco dall'Inter alla seconda su per giù punto più punto meno gol fatto in più gol fatto in meno è assimilabile è sovrapponibile a quello del 2006-2007 quando l'Inter distrusse il campionato e staccò in maniera totale la Roma all'epoca di Spalli e era l'Inter di Mancini ebbene in quella stagione sarà che non erano in gara di fatto estromesse per motivi ai loro ai loro giudiziari Milan e Juventus peraltro il Milan da quell'anno arrivò a 35-38 punti dall'Inter ma vinse la Champions League quindi non era una squadretta da niente però non erano in lotta per lo scudetto e forse per quello immagino non c'era tutta questa cagnara invece quest'anno è stato un susseguirsi di marotta lì e debiti e prestiti e razzisti e simulatori ogni settimana anzi cosa dico ogni tre giorni qualcosa contro lì e il downgrade e l'RSA e mamma mia e poi i social sono i cattivoni detto da chi detto da chi sfrutta proprio quei veicoli almeno i socialisti quelli che campano sui social almeno fanno quello non è che fanno altro denigrano i social e poi li sfruttano è stato un continuo e poteva mancare il caso dei casi l'ultimo caso come titola oggi il Corriere dello Sport l'intrigo 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 il retroscet Octree ha rilevato anche il pacchetto di minoranza del club l'intrigo del 31% di Lion Rock quando è passato alla GH di Zhang quando c'è passato alla GH di Zhang e andiamo a leggere allora l'articolo a firma di Alessandro F. Giudice in realtà il vero arcano resta ma sto F. che cosa sta? non si sa qualcosa non torna nel pignoramento del 31% di azioni dell'Inter riconducibili a Lion Rock due distinte comunicazioni creano un buco di tre anni in cui non è chiaro chi ne abbia mantenuto la proprietà un comunicato dell'Inter giovedì scorso ne esponeva la meccanica il 22 maggio Octree ha escusso il pegno che deteneva sulle quote di GH che non è altro che Crypt Horizon società al vertice della catena di controllo lussemburghese dell'Inter a sua volta GH acquisito il controllo e la proprietà di Lion Rock Zucchiou LTD dove sono arrivato? come cambia? un attimo salta tutto qua a sua volta società che detiene indirettamente tramite la sua controllata ISCSPA il 31,05% delle azioni dell'Inter quest'ultima è la società italiana con in pancia il 31% dell'Inter creata a suo tempo da Eric Toir e acquisita nel 2019 da Lion Rock attraverso un veicolo basato alle isole Cayman Lion Rock Zucchiou appunto acquisendo Grid Horizon Octree ha rilevato tutto quanto vi era dentro ma passavone ma c'è un problema come soprattutto quando quando sono arrivate a GH le quote della società Cayman l'Inter non lo dice limitandosi a precisare di essere stata informata in pari data cioè il 22 maggio scorso lo stesso giorno però un portavoce di Lion Rock ha dichiarato a Reuters che il fondo di Hong Kong aveva cessato di essere azionista all'Inter quando Octree aveva erogato il finanziamento a Giang cioè a maggio 2021 tre anni fa singolare che Lion Rock riportasse ancora l'Inter nel portafoglio di partecipazione del sito internet fino a qualche giorno fa magari una dimenticanza durata tre anni anche se campeggia ancora sul sito del fondo la celebrazione dello scudetto con foto della squadra in ogni caso Grid Horizon non sembra aver acquistato la quota tre anni fa perché il suo bilancio del 2021 depositato qualche settimana fa con due anni di ritardo non ne facendo non si sa neppure come potrebbe averla pagata perché a fine 2021 aveva in cassa meno di 6.000 euro e meno di 50.000 a fine 2020 nel pubblico registro si trovava evidenze di aumenti di capitale negli ultimi anni se è vero quanto sostenuto dal portavoce Lion Rock che non ha voluto rivelare a Reuters l'identità del cessionario per tre anni la quota dell'Inter ha fatto capo a un proprietario misterioso non era Lion Rock e non si sa se fosse lo stesso Giang del passaggio di proprietà della partecipazione non si trova alcuna comunicazione un problema non da poco scrive Giudice perché le norme federali obbligano i club a comunicare trasferimenti di quote societarie superiori al 10% pena l'ammenda o la penalizzazione di punti in classifica e lo stesso obbligo impongono le norme UEFA la comunicazione non riguarda solo l'identità del proprietario diretto in questo caso ISCSPA ma il beneficiario effettivo apicale cioè il soggetto al vertice della catena di controllo se non era Lion Rock chi ne è stato per tre anni il proprietario forse Giang ma quanto lo avrebbe pagata e con quali risorse un buto due imbuti questa è una citazione per i vetusti come me e insomma c'è questo grandissimo arcano di contro sulla gazzetta dello sport si legge il caso Inter restando in tema controlli mentre l'Inter già si proietta verso il futuro targato octrice a chi come la fondazione bianconera non so come identità o la j identità identità quasi il dialetto quasi il dialetto mio vai al dentista identista qua identità identità bianconera saranno marsicani pure questi non lo so indagherò arcano caso intrigo ma sembra non sia la sola reclama sanzioni confronti dei campioni in Italia per come si è arrivati al passaggio di proprietà in particolare per le presunte mancate o comunque tardive comunicazioni dell'uscita del fondo asiatico Lion Rock dall'azionariato Inter al momento alla FIGC scrive la gazzetta lo sport non risulta nulla di illecito nella posizione venera azzurri visto che si parla di un'operazione effettuata da Stephen Young nell'ambito del mercato allora io non ho gli elementi per commentare in maniera appropriata queste notizie ve ne ho dato comunicazione a naso mi sembrano più delle illazioni e delle domande in evase non mi sembra proprio una ricerca giornalistica un'inchiesta un sembra più un qualcosa la percezione che ho io leggendo da un po' di tempo su questa vicenda della serie magari ce cascano ma non funziona esattamente così ci sono le carte ci sono i documenti c'è qualcosa che non va viene fuori ah no giusto Marotta League Gravina League la qualunque league l'Inter è protetta l'Inter va avanti è veramente la squadra che in Italia da sempre storicamente è stata protetta e c'è tutto un complotto in favore dell'Inter ma dicevo non avendo le competenze io ve ne ho dato comunicazioni ho fatto cronaca oggi la segna stampa proprio schietta schietta vi rimando al video che dovrei fare oggi pomeriggio parlando con qualcuno che ne capisce più del sottoscritto e vediamo di fare luce anche su quest'ultimo caso della stagione dell'Inter l'intrigo il giallo X-Files saluto